Sono ancora tiepidi, con le dosi che vi ho dato vengono 10 biscotti come questi sono diciamo abbastanza grandi, io vi faccio vedere uno, lo voglio aprire ancora tiepido, guardate qui che spettacolo! Posso esimermi da fare un piccolo assaggio? No, non vedo allora strepitoso, buonissimo, leggermente croccante fuori, morbido dentro, considerate che è ancora tiepido ma